Il primo spettacolo che ho fatto era a Londra a febbraio 1988, 30 anni fa, sono arrivato in Italia in 95 a Bologna e ogni sabato domenica andavo in piazza maggiore a fare un spettacolo. La cosa bella di lavorare in piazza è il fatto che la gente che arriva in piazza non sanno che stanno per vedere un spettacolo, arrivano là per altri motivi e poi c'è un spettacolo di strada, di clown e riesco a creare un'atmosfera, un applauso, un'energia che prima non c'era, è una cosa straordinaria, molto bella e non posso smettere di fare questo, è troppo figo. Io non ho la musica, non uso la musica, ho tolto la musica, non mi serve la musica, ok? perché io mi piace essere libero così sento tutto, sento la strada, sento lo spettacolo, sento la gente. A me viene meglio così. Io mi diverto, mi diverto tanto, mi piace fare il spettacolo. A volte è molto difficile, veramente difficile, perché il mio lavoro è di fare ridere la gente, che è mica facile. Se volevo un lavoro facile, non lo so, un lavoro in un negozio di scarpe, per esempio. Sì, 41 ce ne abbiamo. Anche il marrone. No, no, io faccio il clown. Ma io sono un vecchio soldato della strada. Vado avanti uguale. Ci vivo con la speranza che la cosa andrà sempre per meglio. Quindi, la speranza che la scuola face ridere i canali, ragazzi. Lo spettacolo. Mi dici in un'altra scola. Per la speranza che la scuola face ridere i canali di un'altra scola. La scuola face ridere i canali di un'altra scola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.